Ancora un grave episodio di violenza, i danni di una donna di 27 anni picchiata, sevizzata e violentata dal convivente. Drammatici e sconvolgenti i particolari resi noti dal capo della squadra mobile Mario Paternostro nel corso di una conferenza stampa tenutasi in quest'ora d'Alessandria e alla quale ha preso parte il commissario capo Antonio Natale. L'uomo che ha la stessa età della convivente è ora in carcere con accuse pesanti scatolite da una serie di episodi iniziati da oltre 6 anni. Alla base di tutto ci sarebbe la gelosia di cui Giuseppe L, residente nel centro storico di Alessandria, dove fino a qualche tempo pa' abitava con la convivente con una bambina di 2 anni avuta dalla coppia, era tra l'altro accecato dall'uso di sostanze stupefacenti. Più volte denunciato e finito agli arresti domiciliari, ora per lui si sono spalancate le porte del carcere di Piazza Donsoria di Alessandria. Dai fatti raccontati dalla donna e poi comprovati dalla polizia, la donna è ricorsa molte volte alle cure dei medici e pronto soccorso per le ferite riportate durante i momenti di follia dell'uomo, il quale, oltre a picchiarla con calcio e pugni, sbattergli la testa con del muro contro un mobile, l'avrebbe più volte colpita anche con una mazza da baseball, anche quando la donna era in avanzato stato di gravidanza. Questo avveniva sia fra le mure di casa sia fuori. L'ultima denuncia presentata dalla vittima alla divisione anticrimine della questura di Alessandria ha fatto scattare il mandato di arresto da parte della magistratura eseguito ieri dalla polizia.